salve a tutti ragazzi bentornato benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video allora prima di cominciare dato che siamo in una posizione differente dall'ultima volta che ci siamo salutati e volevo ringraziare woods cowboy spero di averlo pronunciato correttamente perché sia abbonato al canale quindi grazie mille per il tuo supporto allora ci troviamo in un'altra posizione in verità perché c'è stato un aggiornamento dei server e mi ha detto che qualcosa era cambiato la posizione era cambiata ho atteso 75 secondi prima di poter entrare quindi mi trovo qui ora ovviamente non so dove mi ha tirato fuori se magari più lontano da dove eravamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta o se sono più o meno nelle vicinanze quindi cerchiamo di capire grosso modo dove dove siamo allora ci abbiamo sempre le nostre le nostre cose inutili all'interno del dello zaino però vediamo un attimino come come la situazione più che altro perché noi ci eravamo lasciati dentro un diciamo dentro un appartamento allora vediamo un po come la situazione dove mettermi allora qualche no volevo guardare attraverso ok ma giusto per vedere com'è la situazione in giro perché la c'è una casetta e c'è anche una strada secondaria quindi mi è da pensare che magari abbiamo delle indicazioni il problema è che mi ha un po scombussolato diciamo i piani tra virgolette perché stavamo comunque seguendo una una strada avevamo trovato il paesino lungo appunto questa strada e c'eravamo accampati la quindi vediamo un attimino com'è la situazione non idea assolutamente di dove di dove sia quindi cerchiamo un attimo di vedere bene per quanto possibile avere insomma un'indicazione poi magari me lo vado a guardare sulla mappa su internet giusto per capire dove c'è dove ci ha sbattuto allora quella però è la è il fiume che vorrei evitare di tornare indietro semplicemente solo questo però vabbè continuiamo così l'obiettivo è sempre quello di raggiungere prima o poi il l'aeroporto giusto per capire come la situazione da quelle parti ora magari lui ci ha semplicemente spostato un po più fuori mi vieta dire di dove eravamo non penso che ci abbia sbattuto proprio da un'altra parte l'officio al salvo il game date il 14 2 cioè oggi pc di starting alle 13 fuser a rocette senta l'euro bian time ma quindi dovrebbe averlo già fatto sto registrando sulle cinque e mezza alle 13 quindi dovrebbe averlo già fatto forse l'aggiornamento vabbè se se crash a tutte perché si vede che lo devono ancora fa ecco concentriamoci un attimo ragazzi cerchiamo di guardare un po la situazione in giro perché a parte tutto fare un po di coda per entrare nel server quindi è sicuramente pieno e con con esso ovviamente ci saranno più persone all'interno e più pericoli per noi chissà che quest'oggi non sarà la volta di che stiamo fare se ricomincia allora qua non c'è niente di che allora noi abbiamo due bottiglie d'acqua e ci cibo niente ma proprio niente assolutamente niente questo vorrebbe essere un problema questo vorrebbe essere un problema allora stiamo a controllare le case non vorrei fosse no ok perché qualche episodio fa eravamo arrivati a un villaggetto simile che era lungo la lungo il fiume però c'erano le recensioni e lì avevamo trovato una persona che ci uccise malamente purtroppo però non è non è qui a questo bk 12 non ci interessa però c'è allora aspettate un attimo visto che c'è i corpi noi intanto gli fregamo i corpi vai togli togli ok e questo lo lasciamo qua devo pure bere allora fammi già un po' d'attenzione raga perché qui le porte sono aperte non ci sono zombie quindi mi è da pensare che magari non ci passa qualcuno da un po' insomma quindi per il momento non non ce ne sono però ovviamente non vuol dire che magari l'hanno ammazzati quindi insomma cerchiamo di prestare comunque un minimo di attenzione stiamo cercando comunque dei viveri quindi la c'era del filo però sti cavoli ok che è sta cosa finocchietto con fiammiferi fiammiferi ce le pigliamo non c'erano mai i fiammiferi ok ero convinto di averceli da veri già presi mi sto confondendo facilmente allora continuiamo qui che c'è lampada a gas vabbè sti cavoli mi sembra tutto oh cazzotto qui è un corpo mi sembra tutto fin troppo tranquillo ma che è oh quegli alberi che fanno sta cacciara mi sembrava una pecora tipo dai è impossibile che non scese niente da mangiare dannazione stiamo sattenti niente niente qua non si mangia a quanto pare che è oh minchia ha sentito eh ha sentito spari eppure abbastanza vicini dannazione occhio rega che mi sa che qua ci morimo facili che cazzo è riesco a capire quanto possono essere vicini o meno aspetta col fucile magari sarebbe meglio però dovremmo cercare pure di capire stanno stanno andiamo sattenti rega mi sembravano però un po' vattati come come suono come se mi avessero tipo sparato magari all'interno di qualche di qualche abitazione però non ne so sicuro certo se se li sparassero non sarebbe male come cosa più che altro perché almeno riuscire a capire qualcosa abbiamo cercato che allontanasse però un attimo cerchiamo di avere una una visuale magari più lontana possibile per avere anche un minimo di protezione se entramo direttamente dentro al paese così vorrebbe essere un problema allora cerchiamo di essere un po' più più stealth e aspettiamo è sembra che hanno sparato più volte tipo due tre corpi sicuri non so ovviamente se li hanno sparati a a degli zombie o tra player eccetera di solito forse tra player c'è uno scambio un po' più dei i colpi insomma il problema è che qua non vedo zombie quindi mi veda di cioè potrebbe essere pure più lontano di quello che avrebbe sentito quindi non è detto che siano per forza qua però mi era sembrato abbastanza vicino la il suono in verità però non ci sono zombie un attimo no qua non c'è niente no giusto per aver idea mi pare che non ci sia non ci sia niente se mi sto preoccupando preoccupando per nulla raga forse forse se pazza che abbiano sterminato tutti i zombie vabbè andiamo di allarga cerchiamo di ok evitate bagnacci e schiarpe noi stiamo sempre alla ricerca di di cibo poi se moriamo se moriamo pazienza è stato bello finché finché è durato e niente dai ma quest'anno ho svuotato già tutto mi sa che ci sono già passati qua porta aperta ovviamente ci ha già passato però ripeto non c'è veramente ne mancano zombie per finta strano sta cosa raga per quello me vi è me vi è dubbio è sangue là sopra sul tetto oh va a capire se magari è sangue che già c'era oppure no parte là sopra non so se si può arrampicare sulle sulle magari sulle casse per raggiungere il tetto che è sta cosa maschera di carnevale mazza utilissima qui non c'è niente ovviamente sta nel negozietto magari qualcosa da mangiare oh c'è un fucile ora aspetta sembra lasciato un po' qua in maniera strana non lo so mettiamese un attimo così una posizione strana è uno spotter 22 sapè sti cavoli mi pare di aver capito che è uno dei fucili pessimi che ci siano quindi possiamo prelasciarlo così e proseguiamo il nostro giro raga ripeto però sta cosa mi insospettisce mi non mi rende tranquillo per quanto possa essere tranquillo ovviamente esplorare in questa maniera c'è troppa tranquillità più che altro anche in altro ho detto non ci serve più che altro perché non stanno nascendo manco per per causa nostra diciamo perché c'è niente e quindi è ancora più strana la la faccenda qua ci siamo già stati o no o è un altro bar questo a me sa che è un altro bar eh sì sì è possibile che non c'è niente da mangiare dannazione sfiga qualcuno c'è già bello che è passato vabbè andiamo a vedere dentro dai stiamo comunque facendo queste sono chiuse però occhio perché potrebbe non essere un bene ovviamente l'abbiamo già controllato da fuori quindi siamo abbastanza tranquilli vediamo se riusciamo a trovare magari il nome del della città giusto per capire orientativamente dove siamo o non l'ho vista io mi pare che non ci fosse la qua c'è uno zombie o forse un player occhio perché qui la situazione o qua c'è un altro zombie ok 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 player cazzo sta a sopra sopra o qua a sinistra cosa che sta a sinistra o sta a giro di noi o sta a destra attendiamo cazzo che situazione di stallo dove cazzo sta non me posso muovere non me posso muovere eh po' Magari ha sloggiato Come faccio a saperlo No, sta ancora qua Eccolo Ho fatto una cazzata paurosa Ho fatto una cazzata paurosa Mannaggia la miseria A parte che c'avevo lo shotgun Magari pure con il metra non l'avrei ammazzato Gli abbassero un corpo Praticamente, proprio perché mi sono arzato Ho fatto una cazzata Mi è arzato perché Visto che scendeva le scale Ho detto Magari sta a uscire e non lo vedo Invece è venuto verso di me Perché ovviamente mi ha visto quando mi è arzato Vabbè Esperienza, regà L'ho gestita sicuramente male Questa situazione Babbini Niente Ovviamente ci rigeneriamo Quindi era stato lui a sparare Peccato, se pia tutta roba Capirai ha fatto Ha fatto 13 E' artizio E sì, vabbè Ci rigeneriamo E Ci possiamo pure salutare qui ragazzi Breve Ma intenso Ho arrivato Peccato Forse avrei dovuto aspettare un po' Ho avuto fretta di alzarmi Tanto comunque Magari mi avrebbe visto uguale E in una posizione in cui eravamo mezzi incastrati con lo zombie Magari Potevo O forse era un altro player Non ho capito in verità Potevo Giocarmela meglio A parte che Mi ha sparato Nel momento in cui io mi è arzato Non avevo più l'arma puntata Non sono neanche riuscito a sparare io Quindi è stato proprio Pessimo tempismo da parte mia Alzarmi Ed è andata così Vabbè Sti cavoli Regà Non è un problema Allora Niente Direi che ci possiamo anche salutare qui Tanto stava comunque Albeggiando Cioè stava tramontando Quindi Avremmo comunque Ci saremmo comunque salutati da lì A breve Questa già la lanciamo qui Questa la maniamo subito subito Quindi Direi che ci possiamo Come ho detto Salutare qui Come sempre vi ringrazio Se siete arrivati fino in fondo In descrizione Poi trovate i link A miei Social Poi c'è il mio server discord E la mia attrezzatura In alto a destra C'è la i Che vi riporta la playlist Il titolo Se avrete saltato Qualche appuntamento Se proprio vi va Iscrivetevi anche Al canale Lasciatemi un pollicino In su E vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao